buongiorno a tutti e come ho messo eccoci qua con una nuova crono e come ho detto nell'episodio precedente oggi tocca a Taiwish e mi sembra più giusto di fare un Kamikam Plant Zone anche perchè è il secondo livello andiamo a vedere prima nel classificone ovviamente se si connette il tipo qua per vedere un po' quanto tempo hanno messo a fare tutto l'andiridieni qua con il cacchio di livello 35 secondi di Ahmet andiamo subito col primo tentativo andiamo in 35 secondi dobbiamo battere il tentativo mondiale come ho detto ci proveremo due volte all'affanculo due volte a livello e poi mano a mano porterò diciamo tentativi un attimino più come si dice tentativi un attimino più prorompenti più nella norma ecco con più impegno con più salute e con meno cazzo di palle blu che rompono molto le cacchio di palle perché se sono palle non rompono le palle che c'è qualche problema e io cato cato e muoro molto bene e niente si va subito al secondo tendativo ovviamente poi se ne sarà un altro ovviamente di tentativi si parla di tentativi andati a segno dove ho finito la porca miseria è anche schifa ovviamente io credo che quelli lì che abbiano fatto i recomondi albilissimi tip i mondo a casa li abbiano fatti dopo aver provato e riprovato e riprovato e riprovato qua adesso non mi freghi più anche se ho saltato male comunque no ma bisogna andare tranquilli saltare a ca sopra cordere un attimino di tempo e fare una roba del genere perché la taish è molto veloce ok ho sbagliato no perché ancora di qua bisogna passare porca mignotta no e niente unico tentativo qua perché non è tanto il fatto dell'unico tentativo ma è tanto il fatto diciamo che ce la farò a finì a meno a chi stu cazzo del livello del merda soprattutto se faccio ancora ste cacchio delle brutte figure mentre qua adesso ho bisogno di tentare di beccare la miseria sopra sotto eh non era male come sito a quella oh e che mega salto mi va bene mucho questa cosa qua perché mi ha mandato in un'altra zona sotto guarda qua ci va a becciare i bivi no sto cazzo degli bivi ma vaffanculo no datemi dei money uh perché non ho ci ha fatto quello lì perché sono un cretino olle mentre i 35 secondi sono già andati a porca miseria madonna di facilissimi costumi e la mandò però qua che brutte robe no aspetta mi facci saltare ancora perché tra un pochino manca l'aria e se tra un pochino manca l'aria ovviamente non è che io ho i record mondiali di resistenza subacqua infatti dai 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 no no perché volo oh cristo mi sto chiedendo perché ci sarà soltanto un tentativo ma presto detto proviamo a prendere un'altra strada che è un semplice fatto che altrimenti il video mi dura 80 anni e diciamo che non posso stare qua a fare robe di miliardesimi di secondi e quindi devo anche diciamo stare qua un attimino a orco a pensare le cose che devo fare mortacci del nonno che guarda brutto schifoso ovviamente la seconda parte ci saranno due tentative ovviamente se riuscirò a finire perché è che io io ho ho il tempo eh mentre poi bisogna bisognerà mettersi qua di impegno e con molta un'altra volta un coglione porca miseria sempre nello stesso punto di prima devo mettersi qua di impegno rimaniamo qua ma perché poi prima stavo tipo volando nell'acqua è un po' difficile volare nell'acqua ecco ci sono un paio di logiche non tanto capibili per questa situazione stavo volando a vero adesso con calma che c'è tutto il tempo del mondo perfetto ah che micchia mi tocca rifar tutto porco demonio vedete qua il record è già andato proprio non ve lo sto neanche a dire ecco potete trarre voi le conclusioni di quale diciamo periodo sto parlando soprattutto con quale tipologia di zambroc se ne sono tante però si può anche scegliere cristiano ronaldo andiamo piano percato questa qua è la parte finale della prima zona no questa è la parte finale prima del boss finale della seconda zona ovviamente di sonic 2 che l'hanno rifatta però come parte della prima zona perché come ho detto nel primo episodio questo qua è fatto da un team che è fan accanito dei sonic che ovviamente chiedendo ovviamente il permesso ha rifatto dei vari livelli di sonic e anche dei nuovi un bruttissimo 2 minuti e 19 secondi proprio orificante terrificante e mo ci mettiamo non vado neanche a vedere la classifica ci mettiamo con molto impegno battete al mio record ci metteremo con cristiano ronaldo non l'uno l'ho già fatto l'uno fuori si perché dobbiamo fare la seconda zona le atto 2 questo è un atto di forza andiamo bellissimo questo questo sonic è un atto la e poi le mamma mia che botta ma tu deve ancora che paura ho messo queste simpaticissime nuove tipologie di di eventi molto belli molto carini davvero un lavoro egregio ottimo davvero daludare questo team di fan per il lavoro che hanno messo e la passione che hanno messo con questo sonic mania perché ci voleva un gioco del genere ci voleva ancora che paura ci voleva tantissimo soprattutto per gli amanti di sonic ed vecchissima data come sottoscritto oh che cacchio è cosa mi fa robotonic il coso di dottor eggman no di qua quanti vivi le sotto a palla da riccio anche se test dovrebbe essere una volpina un volpone lo stro oh ah ok quello blu fa male ok abbiamo capito adesso tutti insieme che dolore ho capito che devo fare così perché poi devo fare patapum no però patapum di qua come te si fa anche per fare un bel video e divertirsi poi se non ce la farò subito a battere il record sti gazzi il tentativo rimane sempre boh sopra sotto vai stiamo andando anche abbastanza bene probabilmente e ricomandare sarà tipo di non lo so di una quarantina di secondi perché questo è un attimino un pelo più lungo da fare da portare avanti bellissima questa transizione lì non ci posso andare freghe da qua muro e che minchia una cosa quella ok perché giustamente qua la chimica insegna che la cosa verde fa rimbalzare molto ma molto di più della roba blu le andiamo questo coglione se non mi tocca fa ancora così perde ancora l'udembu e non riuscì con il mio obiettivo dove va i grandi record mondiali la cosa non è bene giocare una cacchio di roba turbo ha fatto di ruota ok di qua se ho passato a fare una cagata sto a fare una cagata mi sembra più che giusto e quindi ah ok sotto perfetto non si va quanta velocità qua perché ovviamente coso là quello un attimino più blu è male mia che botta incredibile quanto mal di testa farà la povera Tais o il povero Tais mai capito un cacchio se è uomo se è una volpina o un volpone ecco la differenza e non finisce più sto livello ma tacci 2-3 minuti vedi guaccio ci saranno sicuramente quelli là cittoni che hanno provato i grandi le grandi scorzatoie e adesso andiamo a vedere quanto è il record di sta pista un record assorreta e 35 su come anche questo minghia ho capito i migliori e ragazzi spero che anche questo tentativo vi sia piaciuto e ci vediamo settimana prossima con il terzo atto ah no fermi nell'atto 2 è un minuto e 27 ok o si può ancora stare ecco e col fatto che ah sono il 989 adesso si che ci possiamo vedere alla prossima volta